Buongiorno a te. Lavorare sulla tua consapevolezza è sicuramente la miglior cosa che puoi fare e puoi sapere perché stai vivendo in questo modo, perché respiri in questo modo, perché hai quel malanno e sapere che c'è una soluzione. E la soluzione sei tu in quella capacità a comprendere la tua grandezza e l'esistenza di una soluzione a tutto. Questo è meraviglioso. Questo secondo me è fondamentale, fondamentale. Fonda la mente nella tua consapevolezza. Porta quella mente a essere uno strumento potentissimo, grandissimo, di grande potere. Non è il potere della mente, ma è la mente al servizio del potere che sei tu e che è dentro di te. Ok? Dentro di me. Dentro di me c'è. E in te c'è quel potere. c'è. Attivalo. Come? Come sempre. Tu sai che è attivato. Adesso. Bello. Bella la pioggia. Bello. 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 Ciao. Aug. Video breve. Un video breve. Ho tante cose da fare e l'azione rimane comunque la migliore cosa possibile. Allora ti saluto e ti auguro una bellissima giornata. A presto. Ciao.